E' morto Franco Marini, ennesima vittima del covid. Nato a San Pio delle Camere, in provincia dell'Aquila, nel 1933, Marini è stato un sindacalista e politico d'animo centrista. A inizio gennaio era risultato positivo al coronavirus e una volta negativizzato è stato ricoverato per complicazioni dovute ai postumi della malattia in una clinica di Roma, dove è morto all'età di 87 anni. Franco Marini, alpino, si iscrisse alla democrazia cristiana quando aveva 17 anni. L'inizio è il suo impegno politico, prima ancora di studiare leggi all'università. Nel 1985 divenne segretario nazionale della CISL, carica che ricoprì fino al 91, quando fu nominato ministro del lavoro e della previdenza sociale nel settimo governo Andreotti. E' solo l'anno successivo che fu candidato dall'ADC per la prima volta, risultando il primo degli eletti a livello nazionale. Nel 97 divenne segretario del Partito Popolare italiano, tra le cui fila fu eletto al Parlamento europeo nel 99. Nel 2006 è diventato presidente del Senato, a discapito proprio del suo ex-leader, Giulio Andreotti. Nel 2008, alla caduta del secondo governo Prodi, Marini ricevette un mandato esplorativo dall'allora capo di Stato Giorgio Napolitano. Le consultazioni però non andarono a buon fine e così tramontò l'idea di un governo tecnico guidato dall'Abruzzese. Marini ha partecipato alla fondazione del Partito Democratico e nel 2013 fu indicato come successore di Napolitano alla Presidenza della Repubblica da un foltissimo gruppo parlamentare, da parte del PD, dal PDL di Berlusconi, da Scelta Civica di Monti, dall'UDC, dalla Lega Nord, dal gruppo di Fratelli d'Italia e da altri partiti minoritari. Alla votazione parlamentare ottenne la maggioranza assoluta, ma non un numero di voti sufficiente a superare la soglia dei due terzi al primo scrutinio. Sfumata la possibilità di raggiungere l'apice delle istituzioni italiane termina la parabola politica, perlomeno pubblica, di un uomo che nel corso della sua carriera ottenne le simpatie di tutto il panorama parlamentare, da destra a sinistra. In queste ore tanti personaggi illustri stanno affidando ai sociali il proprio gordoglio, dai presidenti delle Camere Casellati e Fico al presidente del Parlamento europeo Sassoli, da leader di partito come Zingaretti, Tajani e Renzi, fino al sindacato che guidò negli anni 80. In Abruzzo il segretario del PD Michelefina lo definisce un padre, un maestro e un amico. L'ex governatore Luciano D'Alfonso lo ha ricordato in un lungo post come esponente della dottrina sociale della Chiesa. L'Abruzzo dice addio a una figura che ha segnato profondamente la sua storia, così il coordinatore della Lega Luigi Deramo.